Lei che ha partecipato alla creazione di questa rivista, di questa impresa, di questa scuola storiografica, come la giudica, come la vede, soprattutto istituendo un rapporto tra i fondatori, tra Fevre e Bloch, e le condizioni in cui opera oggi la rivista, cioè un confronto tra l'hier e l'oggi? Credo che lei mi ponga una domanda estremamente difficile, alla quale vorrei rispondere con chiarezza e precisione. Nel 1929, sull'orlo della crisi, a Strasburgo, in una Francia ancora vittoriosa ma che va verso anni amari, Bloch e l'Ossienfevre hanno creato una rivista eretica, cioè il pensiero dei fondatori dell'Annal è un pensiero contro le altre forme della storia. Ancora oggi, dopo tanti anni, la rivista Annal rimane una rivista eretica, è contro le altre, lo è con gentilezza, lo è con forza, lo è senza credine, senza credine, tanto più che oggi ha talmente vinto che sta diventando in Francia la rivista ortodossa. E stiamo perdendo i vantaggi dell'eresia per le noie del potere e le noie del successo. Cosicché credo fosse più facile guidare la barca delle Annal ai tempi di Marc Bloch e di L'Ossienfevre che non ai tempi di oggi, non dico durante il periodo in cui ho avuto la grossa responsabilità delle Annal, dal 1956 al 1968, ma oggi le difficoltà sono immense. Le difficoltà sono enormi perché appena si vince non si è più attenti alla precarietà, direi, del proprio successo. Il successo dà la tranquillità, facilita la stampa. Basti pensare che le Annal sono certamente la più importante rivista del mondo, con 5, 6, 7 mila abbonati, il che rappresenta per una rivista scientifica un successo fantastico. Le Annal sono una rivista anche italiana, perché l'Italia è il primo cliente delle Annal. Gli italiani hanno creato le Annal, quanto i francesi. Le difficoltà di oggi? È assai difficile fargliele capire. La storia viene confrontata con tutte le scienze umane. Ora queste scienze umane si presentano all'occhio dello storico come scienza ausiliare. La sociologia è al servizio della storia, la psicologia sociale è al servizio della storia, idm, l'economia, eccetera, eccetera. Ma è necessario dare rilievo alla storia al di sopra delle altre scienze umane. La storia può soggiogare le altre scienze umane solo se si definisce momentaneamente come struttura superiore. Le altre devono diventare delle infrastrutture. E questo è estremamente difficile. È estremamente difficile perché nessuno storico ha una cultura sufficiente per essere allo stesso tempo psicologo, economista, sociologo, linguista e tutte le altre cose che lei può immaginare. Bisogna dunque cercare di definire la storia attribuendole il diritto momentaneo di prendere tutte queste altre scienze al suo servizio. Ora queste altre scienze non si lasciano ridurre a questo ruolo subalterno. Da questo deriva una lotta continua tra la storia e le scienze umane. Ai tempi di Lucien Favre e di Marc Bloch direi che si è trattato di una lotta quasi coloniale. Lucien Favre e di Marc Bloch è una lotta quasi coloniale. Ma qual è il proprio della storia? Come lo si può definire? Bene, ecco come potrei definire la storia. La storia tradizionalmente è l'insieme delle scienze umane. È l'insieme delle scienze umane non solo nel tempo presente, ma anche nel passato. E più esattamente nell'insieme delle scienze umane la storia è lo studio della società, nel senso più ampio della parola. Ma secondo i movimenti del tempo, o con altra parola che credo facile da tradurre in italiano, secondo la temporalità.